Bentornati amici Topland con Fortunato Gabriele e Yolla Marcello innanzitutto il nostro nuovo saluto lo sai no? Yolla con la Y? Yolla con la G no no sempre la G dai con la Y con la Y Vabbè comunque parliamo di Genoa Juve finita 3 a 1 brutta partita orrenda ma più che altro direi non si dà la colpa per forza ad Allegri no? Perché si ha sbagliato anche lui è normale no? Però in campo scendono i giocatori e ovviamente soprattutto colpa loro secondo me però la cosa più grado ultimamente che sta affingendo questa Juve Gli infortuni ma come caspita si fa di Coimbra chi li prepara questi giocatori? C'è incredibile ragazzi 24 25 anni anche 30 anni che si infortunano così facilmente E se non mi sbaglio c'è stata un'intervista di Allegri stesso che disse che l'anno scorso era un cimitero la rosa invece quest'anno mi sa che è molto di più di un cimitero Magari possono cimitero Meno male che la Champions League e gli ottavi saranno a febbraio non so quando perché non si va così Ma Iguen sta infortunato? Che cosa è successo? Iguen ha avuto una botta quindi non ha potuto giocare da subito quindi l'ha dovuto rischiare per forza però certo a lei che un po' la formazione era pure sbagliata Dani Alvers non lo vedevo tanto bene preferivo Licksteiner però siete rimasti a Siviglia Peccato Dani Alvers è un peccato perché ha ricevuto un fallo Ha fatto molto un fallo E beh tre mesi o quattro mesi di stock Anche Bonucci tre mesi Bonucci due mesi Invece tu cosa hai da dire su questa partita? Che dire? Almeno lo faccio parlare a te ogni tanto come dice Marcello Che dire? Che dire? Ho visto la partita mentre cambio il canale per andare a guardare il risultato della Juve Vado a vedere il 2-0 a 13 minuti dall'inizio della partita E si chiama Sei rimasto spaventato Infatti ti ho chiamato Sto bastato qua mi ha chiamato al ventottesimo minuto esattamente un minuto dopo E l'informatica Se lo sbagliare si va beh insomma subito dopo al 3-0 Ma che state a combinare? Ho detto un po' la maceratessa Ma che state combinando? Che è successo? Fortunato caro ho detto Poi siamo andati un po' a sfocare Siete rimasti a Siviglia Siete rimasti Mi sa di sì Sai che è vero Siete rimasti Poi mi stavo dando la partita Non c'entrò scommesse qua a Mesagli Ma eravamo tutti incavola di neri E se non mi sbaglio Siviglia era 4-3-3 A Siviglia Invece a Genoa è di ritornare sempre col 3-5-2 Che poi non abbiamo giocato anche tanto bene Io l'ho detto pure nello scorso video Che ha mandato non proprio tutto Marcello Però ho detto pure lì non abbiamo giocato tanto bene Però almeno il risultato c'è stato E che risultato? 3-1 Invece qua 3-1 E se lo siamo preso in quel post Il Milan Insidia Vicina Anche se sta a meno 4 Però è sempre rischioso Cioè non dovete dar punti Non dovete regalare punti a altre squadre Parlo da voi Perché è la terza partita che avete perso Beh noi però per adesso siamo in out Lasciamo stare in out Siamo in out Però non siamo in playoff Noi siamo in playoff Quindi forse in playoff lasciamo in out A posto Marcello E va bene dai Io direi di Volevo dire una cosa Che se andate a vedere i nostri video C'è qualcosa che abbiamo cambiato Ah sì mi raccomando Visitate il nostro canale Lo diciamo proprio come state seguendo questo programma Di Topland Abbiamo voluto cambiare Abbiamo un po' rivoluzionato Questi video li lasciamo comunque per Topland No? Li faremo in continuo Li pubblicheremo anche nel nostro canale Vi mi raccomando visitate il nostro canale Vi consiglio di iscrivervi E di seguirci anche nella pagina Facebook nostra E spero che vi possano piacere Alla prossima Marcello Con i playoff è tutto Ciao Ciao alla prossima Ciao Marcello